Salve a tutti ragazzi, qua il profeta da Averita, oggi abbiamo un ospite speciale Io sono Francesco, faccio tante cose nella vita, scrivo, ho scritto un romanzo Qui ci stanno i miei contatti in sovraimpressione, ma soprattutto mi piace il wrestling e lo seguo da anni Ah, dove vuoi partire Fra? Beh, voglio partire dal wrestling, il wrestling è un grande show In cui il wrestler è sottoposto a continui stress Sei costretto a viaggiare di continuo, hai poco tempo per allenarti Vogliono i promoter, vogliono che il tuo fisico, soprattutto a fine anni 90, fosse quello di un bodybuilder a tutti gli effetti Poi prendi le botte, prendi le botte e ti fai male Lo sappiamo che il wrestling è tutto predeterminato Le botte si sentono, gli infortuni anche E tra l'altro, se ti infortuni e tu quella sera devi fare lo show Tu quella sera devi fare lo show, non è come nel calcio che ti sostituiscono E quindi che cosa è successo? È successo a fine anni 90 un fenomeno molto triste Tra il 97 e il 2005 sono morti una marea di wrestler giovanissimi Cominciava anche un processo di sensibilizzazione dopo la tragica morte di Eddie Guerrero Lui morì per le conseguenze di anni di abuso di sostanze, dopanti, di alcol, di droghe Antidepressivi perché, ripeto, facevano e fanno tuttora una vitaccia Sempre in giro, lontano dalla famiglia e quindi ci caschi Caschi negli alti torrifici perché, se sei infortunato, comunque devi lottare E nel 2005 succede, quello che succede è di Guerrero che già si era ripulito ma purtroppo non bastò Comunque la maggior parte pure di wrestler, se li guardiamo adesso, come mi diceva pure Francesco Dicevamo che c'hanno degli standard molto diversi, non so più grossi e definiti come erano una volta C'è una volta c'era uno standard molto più pesanti, ad esempio come Ultimate Warrior Che c'ha un fisico veramente che pareva un bodybuilder Ma adesso ultimamente non lo sto seguendo molto il wrestling Però Francesco mi diceva che comunque ci stanno pure persone un po' normali, un po' cicciottelli Sì, diciamo meno definiti perché poi dopo quello che è successo soprattutto a Crisbenoac Quel momento in poi hanno, si sono resi conto che i wrestler non erano dei, diciamo, soltanto dei circensi Ma erano delle persone e andavano tutelate dal punto di vista fisico, mentale e psicologico E oggi, per risponderti alla domanda, infatti i wrestler fisicamente, se tu riguardi, non sono più quei bodybuilder Che erano tra gli anni 80 e gli anni 90 Ma sono un po' più, diciamo, si guarda anche perché si guarda un po' più al lato acrobatico della vicenda Ma soprattutto alla loro salute fisica e mentale Sì, anche se in America, secondo me, cioè quasi tutti fanno utilizzo delle bombe, dei doping A parte, diciamo, i professionisti, però anche gli amatoriali Magari hanno messo a sto programma, magari avranno limitato l'utilizzo di doping rispetto a come era prima Il punto vero è che finalmente c'è una maggiore attenzione alla salute E tu ci insegni che il doping fa male E poi può portare a problemi cardiaci Sì, come nell'ultimo caso, ho fatto l'ultimo video appunto di quel bodybuilder Di quel ragazzo che è morto, che aveva già un orisma E molte persone mi dicono, è la profeo, ho capito, però non è stata colpa del doping No, perché comunque se tu c'hai qualche problema, il doping e queste sostanze ovviamente vanno ad alterare già i problemi che tu hai Quindi è inutile che la gente mi venite a dire non è colpa del doping Il doping, diciamo, accento queste tue problematiche che tu già hai Quindi la sostanza sarebbe semplice, non dopatevi Sovraimpressione farò mettere al profeta, gli invio il link L'elenco di tutti i morti, di tutti i wrestler morti Sì, vi rendete conto Comunque la sostanza è questa, che il doping fa male, lo vedete pure nel wrestling Perché non è tutto quanto oro quello che luccica Voi vedete questi lottatori che si sfondano, cioè che danno uno spettacolo Però dietro questo spettacolo, quello che voleva di pure Francesco Che stanno persone che comunque anche sono molto fragili Perché hanno questi standard, le federazioni insomma per chi combattono E praticamente sono quasi obbligati a far utilizzo dei doping Eh sì, quindi diciamo il profeta farà un appello finale a non doparsi Io invece faccio un appello finale a allenarsi ancora di più Perché come vedete io è da poco che mi alleno col profeta Un anno rifaremo un altro video e vedremo anche la differenza Sì, perché se no ti invito più sul canale, cazzo, mi fai brutta pubblicità Va bene, detto questo ragazzi, vi saluto, vi lascio i link in impressione anche di Francesco E se vi piace questo format, perché comunque il canale del profeta È sempre incentrato contro... Questa è la sezione culturale questa qui La sezione culturale, penso che i fans può piacere Vi salutiamo, vi saluto il profeta e vi saluto il francesco Ciao a tutti, grazie Perché c'è una mano un cancrena per regge sto coso